Il desiderio di migliorarsi è certamente un desiderio naturale, se diventa però ossessivo, quindi continuo ed incessante, diventa un sintomo di insoddisfazione inarrestabile. E quindi è opportuno, anzi è necessario, che sia proprio lo specialista nella visita, che deve essere una visita approfondita, anche da questo punto di vista, approfondire le reali ragioni che portano il paziente a chiedere quel determinato intervento. Talvolta non sarà necessario perché sono ovvie e sono del tutto condivisibili. Talvolta, capita anche a me questo, io non riesco a comprendere bene il perché si cerchi ossessivamente un qualcosa che è un dettaglio tutto sommato di scarsa rilevanza. Diciamo che è responsabilità dello specialista identificare chiaramente se ci sono problemi da parte dell'aspetto psicologico. Quasi sempre non ci sono, talvolta sì. E in quel caso se ci sono, devono essere un attimino indirizzati, per evitare insoddisfazione da parte del paziente e da parte dell'operatore. È comunque un dato di fatto che oggi estetica e benessere nella società di oggi sono diventati complementari ed è quindi ragionevole e giusto venire incontro alle esigenze di miglioramento estetico. Perché spesso hanno una valenza del tutto positiva sugli affetti, sulla carriera, diciamo sulla quotidianità della vita. A condizione che non ci sia un'ossessione su determinati dettagli che non sarebbe possibile risolvere che anzi creerebbero insoddisfazione permanente.